Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Curse of the Dead Gods, la maledizione degli dèi e morti. Devo ringraziare la Focus Home perché mi ha permesso di provare questo gioco e di portarlo sul canale, grazie anche alla collaborazione fatta mesi e mesi fa con Aplugtail Innocence. In pratica loro lo distribuiscono, ma poi questo è un gioco sviluppato da Ipastec, quindi è un gioco che possiamo definire Indie. È consigliabile giocarlo con il pad? Lo proveremo con la tastiera. Vi spiegherò un pochino che cos'è questo gioco, perché a prima vista può ricordare magari un Diablo, un Torchlight, in realtà Nii, nel senso che sarebbe in realtà un Roguelike, quindi si muore, si ricomincia, quindi si aggancia bene con i video che ho fatto su Dead Cells. È un gioco in Early Access, anche se sembra praticamente già finito, ma in realtà nel corso del 2020, quest'anno dovrebbe arrivare alla release finale, alla 1.0, aggiungendo altre cose. Quello che cambia tra ora e la fase finale, appunto, è il fatto che aggiungeranno più divinità e più, diciamo, templi giocabili. In che cosa consiste? La struttura della mappa è quella un po' alla Faster Than Light, quindi noi scegliamo dove andare, ci andiamo e affrontiamo la stanza con i nemici. Mentre c'è un sistema di maledizioni che ricorda un pochino Rogue Legacy, cioè praticamente noi possiamo andare, allora, ogni stanza che noi esploriamo e che poi battiamo, insomma, nell'accedere alla nuova, quindi aprendo una porta del tempio, andiamo ad accumulare dei punti maledizione, se così si può dire, e quando la barra della maledizione sarà piena, avremo accumulato una maledizione che potrà essere tra le più svariate, e lo andremo a vedere oggi. Ok, andiamo a prenderci la torcia col tasto 1, si va a colpire, ovviamente poi col tasto 2 si va a sparare o a colpire, lo sparo... è il classico colpo a distanza, insomma, e il tasto 3 invece niente. Poi, in realtà dovrebbe essere, ok, invisibile anche l'inventario con tutto quello che abbiamo raccolto, perché qua ci sono le nostre statistiche, adesso io non mi ricordo esattamente quali sono, ma le andremo a vedere in seguito. E in seguito anche al numero di teschi che accumuleremo, questo è l'oro, questi sono i teschi, in base ai teschi che accumuleremo andremo a sbloccare dei perk utili per le partite successive. In questo caso riprendiamo la torcia e illuminiamo. Ora vi spiego quel che resta da spiegare, insomma, perché lo trovo molto, molto immediato. Ecco, una cosa, so a rotolare, eh, giusto per le polemiche di Dead Cells. Tra l'altro la barra che vedete qua sotto è la stamina, stamina che si consuma anche sparando a distanza, quindi non possiamo farlo finché ne abbiamo voglia. Muoriremo ripetutamente, eh. In basso a destra invece notate la barra della corruzione. Ogni volta che accediamo in una nuova zona, andiamo ad accumulare punti. Ogni volta che la barra arriva a 100, accumuliamo una maledizione. Infatti come vedete qua sono 5 maledizioni, l'ultima è la finale. Questa invece, questa invece che andiamo a vedere, è l'inizio della nostra avventura. L'apertura del tempio, insomma, e l'esplosione. Muoriremo male, eh, lo so già, ve lo dico già. Ma, eh, è davvero interessante, perché visto così sulle prime, ho visto una live all'inizio, poi vabbè, io ero già dentro dalla beta, però ci avevo fatto poco. E le prime volte che avevo visto questo gioco, pensavo fosse un diablo in realtà, no. Allora, vedete, possiamo iniziare da uno di questi. Possiamo trovare reliquie, possiamo trovare oro, e da lì poi possiamo andare in ogni zona, cioè, andando verso la fine, che è qui. Se noi prendiamo la reliquia, poi possiamo andare a prendere l'arma, e salire così via. Qua invece possiamo andare a prendere una stat, un potenziamento di un, magari, il danno, piuttosto che più stamina, insomma, aumento della vita, altre cose. E io direi di prendere la reliquia, per cominciare. E vedete che, aprendo questa porta, abbiamo preso una maledizione. Cioè, puntima corruzione, scusate. Quindi abbiamo 20 su 100. Ecco, come vedete qua in basso. Quindi, iniziamo. Qua si rompe tutto, si recuperano oggetti, si recupera ovo. E andiamo avanti. Allora, qua, molto importante, rotolare, per evitare i danni. Ma vi sto dicendo... Uh, tu, 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 tu. Ah, che cacchio. Ah, no, ma sono un babbano. Sto colpendo con... Uh, li, 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 li. Sto colpendo con la torcia. Vediamo quanto sono... Eh, no, ho già finito la stamina. Mi sono... Madonna mia. Beh, fortunatamente la vita ne ho un bel po', quindi riusciamo un pochino a resistere. L'inizio veramente è stato da incubo. Intanto, ok. Uli, 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 via, 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 via. Ok. Ok. Non ho ancora capito bene in base a cosa salgano questi teschi. Penso le uccisioni, però... Vabbè, in pratica dovremmo aver finito. Quindi qua possiamo aprire, prendere l'oro e prendere anche questo, l'arco azzoppante. Arma a due mani, prendo. Quindi, tecnicamente, prendendo il 3, vedete, possiamo andare a sparare con un'arma. Adesso io poi non so se effettivamente sia sostituibile una delle due con l'altra, perché questo non ho ancora guardato. Comunque, la descrizione dell'oggetto punta al ginocchio, punta al gomito e fa zocchificare il nemico. La morte arriva per tutti, ma perché è indebolito arriva prima. Sì, in effetti sono d'accordo. Comunque... Vediamo che danno fa. Sì, però la saccaniata non la prendo sempre comunque all'inizio. Allora, vediamo se riusciamo a battere almeno una stanza. Adesso siamo a metà vita, quindi punti ce ne sono. Poi bisogna fare attenzione anche a queste cose qui che poi si distruggono per tante cose del livello sono distruttibili. Distruggibili. Si va ad accendere. Vedete queste? Vanno a sparare. Dovremmo aver completato la stanza. Quindi... Qua abbiamo una... Martello principale. Danni critici nemici incendiati. Vediamo un po'. Meglio di... Sì, non ha poteri speciali. Prendiamoci questa mazza anche se in realtà non mi piacciono molto. Allora, avevamo completato la reliquia e infatti la stanza era una stanza di reliquia. Abbiamo completato la stanza e ora possiamo andare ad acquistare una reliquia. Allora, il problema è questo. O paghiamo in oro, ma oro ne abbiamo 275 e qua ne chiede 700, 1400 e 2100 oppure paghiamo in oro, in maledizione. Vediamo che cosa fanno. 6 di destrezza, quindi ci aumenta questo parametro. Questo ci aumenta più 30% di danni al buio, più 3 di destrezza, quindi è molto bella questa. O questa che costa più di tutte, 300% dei danni subiti in oro, questo va bene per me, però paghiamo pegno con 70 di maledizione. Il problema è prenderemo probabilmente 20 punti maledizione nel momento in cui supereremo la porta per andare alla stanza successiva. Quindi con questo 70 più i 20 che abbiamo già andremo a 90 e quindi sforiamo. Ma dato che voglio farvi vedere la maledizione, il discorso maledizioni, andiamo a toglierci del sangue, a corromperci l'anima, prendere la reliquia e quindi fare un botto di danno in più, cioè un botto di danno in più, aumentata la destrezza e prendere danno in oro, 300% di danno in oro, dato che io sono uno che incassa parecchio, insomma. Ora dove andiamo? Possiamo andare soltanto verso l'arma, quindi andiamo verso l'arma e magari speriamo di migliorare qualcosa, ma io sono come convinto che aumenterà la... cioè moriremo, insomma, non avremo modo. Taglia dello sciocco. Abbiamo preso una maledizione. Più un'anima desidera, più diventa nera. Rubare dai poteri antichi lascia una macchia ancora più oscura su chi è avido. I forzieri d'oro adesso spargono corruzione quando vengono aperti. La quantità di oro dei forzieri è veramente... Ok, quindi praticamente vabbè, la cupidigia non è incentivata in questa partita perché più prenderemo oro più ci salirà anche la corruzione. Contestualmente ci salirà oro anche con il... Mamma mia! Via rotola! Dovrei colpirlo di stanza, forse. Boia, mondo. Forse col pad è un po' meglio perché... Mamma mia! Aia! Dovete stare tutti molto calmi perché è forse più reattivo. Allora, tecnicamente il gioco è fatto veramente molto bene ma con la tastiera del mouse è veramente abbastanza ostico. Ok. Allora, al momento la corruzione non sta salendo ma Baia Baia Boia mondo. No! Non è così morto però. No! Mamma mia ragazzi mi sto morendo male. Eh sì, sono morto. Ve l'avevo detto, eh? Cioè, non lo so. Allora, abbiamo fatto l'11% della progressione. Abbiamo giocato 7 minuti e abbiamo fatto dei danni abbastanza imparazzanti. Voi lo sapete che io non sono una cima in questi giochi ma mi piace molto. Allora, col tasto E si va a ricominciare e possiamo prendere dei perk. No, perché ce ne servono 10 di teschi quindi non abbiamo fatto minimamente quello che potevamo fare. dono divino ci chiede 5. Ogni dono ti permette di aggiornare la scelta di oggetti dei requari. Ok. Qua mi ricordo anche un po' forse Slate Aspires insomma che work in progress roba nuova ne arriverà ancora. Possiamo andare a ricominciare. Ricominciando vedete che poi qui abbiamo queste e arriveranno altre campagne quindi come vi dicevo altre divinità nel corso di quest'anno. Il gioco costa 14 euro quindi non è neanche tanto. Allora prendiamoci subito l'arma e poi così andiamo sul punto interrogativo se tutto va come deve andare e vediamo che cos'è il punto interrogativo. Allora colpendo questi esplodono quindi via. Allora colpiamo cercando di avevamo una maledizione abbastanza proibitiva prima perché l'oro è importante ma ci negava tutto. Il senso di questo gioco adesso io sto incassando proprio come fossi un pivello e in effetti un po' lo sono lo scopo del gioco sarebbe anche quello di sfruttare magari a proprio vantaggio delle maledizioni cioè il gioco di parole di intenzioni che hanno gli sviluppatori con questo gioco perché magari noi abbiamo uno stile di gioco che ci fa fare determinate cose che con una maledizione magari per altri giocatori sarebbe proibitivo ho già fatto fuori tutta la vita ma sono un po' più tosti di primo sbaglio poi sono anche nascoste queste cose e non non le vedo questo è un boss mamma mia ragazzi che noia che siete ok no sono veramente scarsissimo io mi imbarazzante cioè non è il gioco difficile sono io che devo provare col pad allora qua possiamo prendere diverse cose possiamo prendere l'arma vedete prima avevamo le reliquie ora abbiamo l'arma paghiamo pegno con la lancia piumata no l'ammazza titani offro sangue e andiamo a prenderci una nuova arma l'ammazza titani corruzione l'ammazza titani è qua eh insomma niente di che però abbiamo oro da prendere no vieni ma questa sono su un coglione non c'è proprio da fare andiamo avanti 20 di corruzione andiamo a 50 però andiamo nell'unknown vediamo che cosa salta fuori con l'unknown gioco in italiano ma c'è ancora qualche termine abbiamo preso la maledizione rapidità oscura vediamo un po' se è un nostro c'è un misterioso senso di conforto negli attimi che precedono la morte quando tutto diventa chiaro e le ombre sono come un rifugio la schivata ti rende intangibile per un periodo superiore sì infatti quando rotoliamo siamo diciamo invulnerabili le schivate perfette non rigenerano più resistenza eh becca è quella vabbè quello non lo sapevo nemmeno quindi non mi cambia niente prendiamo qua poi le mappe sono sempre abbastanza circoscritte non sono enormi però nemici ce ne sono eh però se non colpisco con la torcia e colpisco con l'ammazzatitani maledetti adesso vi spacco in due tutti eh venite venite tutti qui insieme ok abbiamo preso un oggettino ho attacchi infuocati lo sostituisco al macete quindi in pratica andando qua facciamo questi attacchi così figo un sacco di oro ben già svuotato la stanza no qua ce ne saranno altri non abbiamo tanta vita a dire la verità quindi voglio provare vedere scusatemi il rumore della tastiera che tra l'altro non è meccanica ma si fa sentire quando l'azione è concitata lì c'è il tavolo da ma carepa ok molto bene ci abbiamo fatta ora bello recupero il 2% di salute massima quando un nemico viene ucciso dall'ambiente bello mi piace questo invece aumenta la resistenza massima di 1 glifo della guerra più 1 per l'arma principale più 2 no prendo questo offro sangue e andiamo a prenderci magari un'altra maledizione vediamo e adesso 2% di salute massima però mannaggia ho letto male vabbè qua c'è qualcosa no non si recupera la vita niente ragazzi si va avanti quindi alla fine avevamo questo che non si sa che cos'è perché ci ha dato quelle cose lì andiamo ad aumentare un po' le stats si va avanti intanto moriremo a breve vediamo se abbiamo una nuova maledizione non so neanch'io cosa scegliere perché 1 2 questa è una stanza più grande diciamo allora proviamo ad attaccare con questo vediamo se qualcosa cambia stiamo finendo che la stamina quindi bisogna fare molta attenzione vediamo se mi cura 262 ma in realtà non funziona forse ho letto male io comunque mazza del cercatore fa 20 danni rispetto all'artiglio no ma ho già l'altro non mi interessa ok molto bene e saltiamo di là allora un sacco di roba prendiamo soldi che ne abbiamo già comunque un po' qua almeno magari riusciamo ad acquistare qualcosa senza doverci vendere l'anima al diavolo ok andiamo di là no è sempre con la torcia maledetta adesso però dato che siete tanti magari proviamo a farlo con così eh beh al suo perché devo far ricaricare un po' la stamina ma perfetto prendi questo ok finito? no piacerebbe forse è finito e invece sì è finito incredibile ragazzi incredibile allora allora e regalo di tramote salute massima più 250 riusciamo a permettercelo anche con i soldi regalo più 25 di oro più per 5 monete non riusciamo a comprare questo vabbè compro questo ma offro oro così almeno sì però andiamo 1250 ma la nostra salute resta la stessa quindi alla fine abbiamo cambiato niente e adesso ci pigliamo un'altra maledizione però iniziamo tuttavia a vedere la luce in fondo al tunnel perché qua vabbè adesso qua andiamo a prenderci l'arma tanto con la vita che abbiamo dureremo veramente poco maledizione vediamo cosa taglia dello sciocco ancora più un'anima i forzieri d'osso ah sì ok è la maledizione di prima ok è quella di prima cioè ci sale la corruzione con i forzieri va bene ci sono maledizioni che hanno anche a che fare con la luce quindi possiamo magari essere costretti giocare al buio ovviamente non è ai livelli di rogue legacy che ho citato prima dove si facevano delle cose assurde tipo camminare al contrario o girare ciechi o sono cose un po' più plausibili ma sempre comunque interessanti e soprattutto gli sviluppatori avendo un gioco di early access hanno un grande potere perché possono veramente aggiungere delle cose interessanti ora il problema di quest'arma è che fa un male boia ma ma consuma un botto di stamina quindi e se io sono un babbano e manco il colpo no però ce l'ho fatto ho preso un preso 6 quindi riusciamo a comprare qualcosa allora vediamo un po' l'arma che cosa prendiamo abbiamo la cold rainmaker si vabbè ragazzi mazza dello schiarista non mi interessa niente di sta roba mi sto trovando bene con questo io sono uno è corruzione a relic o specifiche uh lì c'è la cura quindi dobbiamo andare qua di qua prendiamo andiamo di là e poi tentiamo di curarci ma la vedo molto dura la vedo molto dura perché il gioco via via diventa sempre più difficile e e io ho una vita imbarazzante in questo momento beh però insomma peccato peccato ragazzi perché quell'arma lì mi piaceva molto faceva anche un sacco di danno abbiamo fatto il 44% in 6 minuti quindi direi che vita non ne abbiamo ripristinata perché potevamo farlo solo a quel punto è un gioco davvero molto intrigante mi piace quasi quanto Dead Cells nel senso che è un po' più tattico ovviamente avendo l'isometrica e non la visuale diciamo in 2D fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questo course of the Dead Gods e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay lasciatemi come sempre i commenti qua sotto alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao